ciao amici finalmente siamo tornati in palestra e oggi vi propongo un allenamento di braccia in superset io adoro i superset e quindi li uso spesso come primo esercizio vado a fare delle spinte basse per i tricipiti e poi prendo il cavo basso con la barra dritta e vado ad allenare i bicipiti qui tengo un minimo di 15 un massimo di 20 ripetizioni perché uso questi esercizi come riscaldamento qua invece andiamo a lavorare sul mono articolare quindi sulle braccia singolarmente tricipiti spinta dietro con un manubrio si muove solo l'avambraccio e il braccio rimane fermo adesso vado ad alzare la panca finito di lavorare il mio tricipite alzo la panca e trovo il giusto appoggio e la giusta angolazione per andare a lavorare il braccio singolarmente con un bicipite concentrato a un manubrio non distendo né troppo verso il basso né troppo verso l'alto dopodiché andiamo ad eseguire un esercizio semplicissimo doppi bicipiti coi manubri da seduta questo è un esercizio che va benissimo anche per i principianti il mio terzo super set prevede come secondo esercizio un esercizio per i tricipiti unisco benissimo i pesetti mi raccomando devono essere bene uniti gomiti chiusi non aprite mai gomiti e distendo verso l'alto questo french press da seduta con questo terzo super set si conclude il nostro allenamento potete eseguire da un minimo di 10 ripetizioni a un massimo di 15 20 ripetizioni dipende se siete avanzati o intermedi i nostri tricipiti e i nostri bicipiti sono molto tonici vi saluto un bacio cristiana casone